Questo è il 486 EL Parallelo, il nuovo Beretta side-by-side. Questa scuola è molto elegante e armoniosa, e è la nuova entrata nella 486 linea. Il stock e il forehand sono molto piccoli, e sono fatti con 3 gradi. Il servizio è un corpo roto, è molto propostente e molto elegante. In effetti abbiamo aggiunto anche le strade. Tutta la superficie del servizio non è trattata con nessuna trattata di superficie, e si trattata da un'embraccia davvero fine di scuola e rose. Il meccanismo di triggere è molto legato grazie a delle v-shape spruzioni e a delle ammere di rebondi, che garantiscono un pulso e più veloce. e le strade di triggere. I baralli sono collegati grazie al nuovo 3-block system di Beretta, in modo da avere una superiore elegante e estetica. In effetti abbiamo eliminato un'immbraccia di triggere tipica del sistema monoblock del sistema monoblock. La scuola è disponibile in due diverse versioni, la bianca e la bianca e la bianca. La scuola è caratterizzata da componenti nero e un'immbraccia di triggere con molti colori del tipo inglese. di un'immbraccia di triggere per la scuola. La scuola è da